In occasione della giornata mondiale del rifugiato, indetta dalle Nazioni Unite per il 20 giugno, è stata aperta una settimana di appuntamenti con il convegno per una politica europea di asilo, accoglienza e immigrazione, quale Agenda Europea, organizzato dalla Federazione Regionale dell'AICRE con il Consiglio Regionale. Una giornata direi è molto importante per il Consiglio Regionale del Piemonte, con la presentazione di questo volume per una politica europea di asilo, accoglienza e immigrazione, sicuramente in un momento molto particolare per l'Italia, ma direi per l'Europa tutta. Un auspicio che l'Unione Europea inizi ad essere davvero tale su queste tematiche, non lasciando sola l'Italia in un momento di difficoltà. E credo che il banco di prova effettivamente sarà quello che viene vissuto dalla nazione in questi giorni.